Buonasera e benvenuti a 12 porte, l'appuntamento con le notizie dalla Diocesi di Bologna e apriamo con le celebrazioni in onore di Santa Caterina da Bologna che sono in corso presso il santuario del Corpus Domini. Mercoledì l'Arcivescovo Monsignor Zuppi ha presieduto la celebrazione della Santa Messa in occasione della festa liturgica della Santa. Caterina, ha detto l'Arcivescovo, si sentiva profondamente legata alla nostra città combattendo la sua invisibile ma reale battaglia contro il male. quello stesso male che divide gli uomini della città. Diventare specchio dell'amore di Dio, questo è l'ideale di Caterina che dobbiamo fare nostro perché attraverso la nostra vita tanti possano incontrare il Signore.